Il tempo ha confortato, il numero di barche è stato veramente eccezionale, non sappiamo se è un record e comunque è un successo incredibile che non ha molti uguali, vedere oltre 70 barche in acqua è sempre uno spettacolo emozionante, la correttezza è stata totale, stamattina c'è stato un incontro fra gli armatori e la federazione Luvai che si è svolto, naturalmente ce l'aspettavamo con alcune osservazioni ma in assoluta democrazia e crediamo che il poter far vedere in occasioni così ufficiali la presenza di FIV all'interno di queste manifestazioni fosse importante, non è usuale.